Noi di Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi. Come il nostro bagno docce rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70 euro. Bassi e fissi. Qualità e convenienza che non temono confronti. Torna il pubblico al Festival di Sanremo e scattano le regole per l'accesso al Teatro Ariston. L'anno scorso la sala vuota non è stata presa bene da artisti e cantanti, anche se abituati in alcune trasmissioni ad esibirsi solo davanti alle telecamere. Quest'anno gli spettatori siederanno nuovamente in sala, ma gli ingressi dovranno essere regolamentati. Abbiamo chiesto a Walter Vachino, titolare del Centro Ariston, Qual è l'emozione che si prova a vedere nuovamente il pubblico all'interno del teatro durante il Festival? È un effetto bellissimo che ovviamente è un effetto di energia. Il pubblico lo vedo come una forma di energia che dona agli autori e agli artisti e ai cantanti a tutti quelli che sono sul palco perché quello che è mancato ovviamente col silenzio nello scorso anno ad Amadeus e Fiorello è stata questa forza, questa forza che viene dal pubblico. Questa forza devo dire che penso riuscirà a travolgere e dare un nuovo connotato a una trasmissione che l'anno scorso ha toccato, credo, il vertice come successo e come possibilità di essere globalizzante. I Malensky hanno ottenuto quello che era impensabile all'inizio, era impensabile per loro, per il Festival, per il direttore artistico che ha avuto anche fiducia e soprattutto per tutta l'Italia perché è stato l'anno, il 21, un anno dell'Italia che dovremmo superare. Ce la mettiamo tutta perché la sticella è bella alta.